Ben tornati a Tistato, l'appuntamento con tutte le informazioni e approfondimenti settimanali alle nostre spalle, una piazza del campo ricca perché oggi c'è Dolci, Dolcezza e Motori e dopo durante la nostra trasmissione ne parleremo con anche dei servizi a riguardo quindi durante la trasmissione potrete vedere anche quella che è la manifestazione, la novità di quest'anno che si sta svolgendo, quindi in questi giorni a Siena. Parliamo adesso, subito, in apertura di Monte dei Paschi di Siena, c'è stata l'assemblea in questa settimana e lo facciamo con Romulo Semplici dell'Associazione Petra Salina. Tanto buon pomeriggio. Buongiorno a tutti. Quindi un'assemblea che intanto cosa abbiamo visto? Che il MEF ha votato no alle azioni di responsabilità contro Profumo e Viola ma anche contro la di Morelli e poi i soci hanno approvato il bilancio del 2018. Ricordiamo anche che l'assemblea del Monte dei Paschi è servita la di Morelli per ricordare di come il Monte dei Paschi si sia rimesso in moto ma anche di quanto è difficile tuttora farlo anche perché ricordiamo che questa cura dimagrante è fortissima e non si può tornare a pensare ai ricavi degli scorsi anni. Assolutamente. Due cose che sono toccate molto importanti. Il ruolo del MEF. Io in assemblea ho fatto veramente, lo chiamo al CDA a chiarire questo ruolo che ha il MEF perché non capiamo come una banca importante purtroppo non più come prima come il Monte dei Paschi abbia una guida del tutto chiamiamola occulta perché il MEF vi ricordo che ha ora la maggioranza bulgara in assemblea addirittura una maggioranza che potrebbe in qualche modo anche variare uno statuto senza chiedere niente a nessuno, una maggioranza molto più ampia di quella che era della fondazione, però viene in assemblea, viene una persona molto per bene come il Dottor De Stefano che ormai viene sempre, non prende mai la parola, non annuncia mai un'intenzione, non ci dice mai niente né sulla gestione della banca né sulle decisioni che va a votare, schiaccia un bottone sì o no e annienta tutto il lavoro teoricamente fatto da azionisti come noi piccoli e grandi che vanno lì 6-7 ore a discutere e a portare i loro problemi per poi essere del tutto annientati, è una cosa intollerabile, è una mancanza di rispetto, mi ricordo la fondazione nelle sue atti sicuramente non belli del passato perlomeno faceva una relazione o iniziale o finale, spiegava quello che faceva, ma non è possibile che il MEF si presenti qui, una persona, ho detto per bene, ma un funzionario non ci dice le decisioni che l'ha presa, a che livello, come mai sono state prese, il sì o no all'azione di responsabilità, perlomeno andava motivato in qualche modo, ecco questa è una cosa gravissima che io ho fatto presente al CDA e spero che Morelli e Labariatti si muovano anche in questo senso perché in futuro non sia più così. E vi siete mostri anche attraverso una lettera che avete scritto a Mattarella e a Conte. Sì, l'associazione ha deciso di muoversi un pochino anche perché purtroppo Siena è del tutto ignorata nel panorama nazionale, è veramente una cosa preoccupante perché mi dispiace dirlo, ma anche l'attuale governo dove ci sono dei rappresentanti di due forze politiche che nel tempi passati erano molto critiche, molto attive sul Monte dei Faschi da quando sono al governo, la questione Monte dei Faschi è sparita, ora dato che noi abbiamo in qualche modo delle interlocuzioni con persone amiche come Carlo Sibilia, Villarosa, Pesco che sono state a Siena, sono state attive, cercheremo di sollecitare e di capire il perché di questo atteggiamento. Nella lettera che abbiamo fatto prima a Mattarella per questa mancanza di riguardo nell'associazione sienese, perché vi ricordo che lunedì scorso c'è stata l'audizione delle associazioni delle vittime delle banche, ancora una volta di Siena non c'era nell'associazione con il governo soprattutto, ma nemmeno Siena Siena e comunque nel suo piccolo in 15 anni qualche cosina ha fatto. Le lettere hanno questo significato, tra l'altro lettere private, non le abbiamo nemmeno pubblicate nella stampa, poi ho visto che è stato ripreso da qualche giornalista dal sito, mi fa piacere perché è una cosa veramente che deve avere una risposta anche a questo, non è possibile perché Marco Monte dei Paschi che si vuole dire è il più grande disastro finanziario del dopoguerra, da solo a Monte dei Paschi vale quanto tutte le altre banche, per cui se è una cosa che non vogliono toccare perché non hanno le soluzioni, bisogna si attrezzino e noi qualche suggerimento da Siena potremmo darglielo, se non sanno cosa fare è preoccupante perché il governo deve avere un ruolo. Ecco, proprio rispetto a questo, parliamo di governo, in un'asse come quella dove c'è appunto Lega e Movimento 5 Stelle, ma soprattutto Movimento 5 Stelle che del Monte dei Paschi ne ha fatto una battaglia politica anni e dietro, il senatore Paragoni ha scritto sui social dopo l'Assemblea, quindi ha commentato l'Assemblea, ma ci si aspetta qualcosa di più? Te l'ho detto, anche perché lo stesso Bivona è stata una persona audita nella commissione parlamentare di inchiesta precedente, ora non voglio dire, non voglio essere offensivo, ma è stata un po' una farsa per come è stata fatta, per i tempi, per chi l'ha presieduta, per cui è una persona che comunque si è attivato, come dice qualcuno, una persona che non è che lo fa per la passione per la città come lo facciamo noi, lo fa per un interesse perché è il suo lavoro, è un consulente finanziario, questo però cambia poco le relazioni che fa, l'aiuto che sta dando anche all'Avvocato Paraschi come consulente di parte ai processi di Milano è un processo importante e lui ha avuto interlocuzioni, mi sembra di capire, con Nutti, con Pesco, con una parte dei Cinque Stelle, penso lo stesso Bivona si sia rivolto ora a queste persone per dirgli cosa è successo, perché lui per fare quelle azioni di responsabilità ci ha impegnato tempo, ci ha impegnato soldi, viene da Londra all'Assemblea, c'è tutta una serie di situazioni che hanno bisogno di risposte. Bivona è stato chiamato in causa, però prima guardiamoci il servizio relativo all'Assemblea del Monte dei Paschi e soprattutto anche le parole di Morelli. Vediamoci. Approvato con il 99,97% del capitale, il bilancio 2018 di Banca Monte dei Paschi di Siena. Dalla lunga assemblea iniziata questa mattina e conclusa si poco fa, emergono due notizie di rilievo. La prima è che la banca senese torna a produrre utile dopo anni di passivo. È di 279 milioni di euro, infatti, il consuntivo al 31-12-2018, un dato importante che conferma il trend degli ultimi mesi. Siamo in fase di rilancio, ha affermato l'AD Marco Morelli commentando i dati. Favorevole il tesoro maggiore azionista della banca, che però in fase di discussione non è intervenuto nel dibattito. L'altra notizia di rilievo, per la verità piuttosto attesa, è stata la bocciatura delle richieste di azioni di responsabilità, una nei confronti degli ex vertici Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, e l'altra nei confronti dell'attuale presidente Stefania Bariatti, dell'AD in carica Marco Morelli e di tre consiglieri del Consiglio di amministrazione, presentate tutte dal rappresentante di Bluebell, Giuseppe Bivona. Noi abbiamo un piano molto stringente, come sapete tutti, viene monitorato. Abbiamo il dovere, da una parte, di fare il possibile, come management, come banca, come gruppo di migliaia e migliaia di dipendenti, fare il possibile per raggiungere gli obiettivi del piano. Come io ho detto, ci sono alcuni obiettivi che vengono raggiunti velocemente, altri che vengono raggiunti in modo più lento, ci saranno dei trimestri migliori e dei trimestri diversi dai trimestri migliori, io cerco di spiegare, i conti si tirano alla fine di ogni esercizio, alla fine di ogni anno, perché, e arrivo alla seconda osservazione, noi se, ripeto, dobbiamo essere super concentrati sul piano, dall'altra abbiamo come consiglio, come management, come consiglio il dovere di sottoporre all'azionista tutta una serie di valutazioni che facciamo su possibili alternative strategiche, possibili configurazioni della banca diverse dalla configurazione attuale, possibili revisioni del modello di business che significa fare le cose in un modo diverso. Questo è dovere nostro, è quello che facciamo, ovviamente, dopodiché questo tipo di riflessioni le portiamo all'attenzione dell'azionista che, come poi voi sapete, è rappresentato in CDA e su una serie di cose è ovvio che è l'azionista che deve poi intraprendere dei passi, prendere delle decisioni e con il supporto della banca eventualmente discutere con la Commissione europea, man mano che il piano va avanti, se e in che misura ci devono essere degli aggiustamenti. Noi abbiamo sentito anche le parole di Morelli a termine dell'assemblea, quindi nella stampa aperta ai giornalisti, ecco, dalle parole di Morelli cosa si può intendere? Sicuramente come abbiamo detto, un'apertura, una situazione ancora molto difficile, Morelli che fa anche un richiamo ai dipendenti dicendo che comunque il futuro sicuramente del Monte dei Paschi potrà essere anche quello, cioè il coinvolgimento dipendente, sicuramente ancora la strada è lunga. La strada è lunga e perigliosa, anche dentro la settimana governo c'è due anime, ci sono delle persone che hanno vissuto il caso Monte dei Paschi anche da dentro, da ex dipendenti, da ex dirigenti che veramente hanno un po' uno spirito, diciamo un po' incattivito da quello che è il risultato del bilancio e anche come viene presentato, perché non me ne voglia Morelli è una persona che io anche pubblicamente ho apprezzato, stimato, perché comunque ci sta mettendo veramente passione e impegno per una missione impossible come la chiamiamo noi, perché lui è venuto a Siena veramente raccattando delle macerie sulle quali era difficile lavorare e è difficile lavorare, per cui ci sono delle persone che guardano esclusivamente i numeri e purtroppo i numeri del bilancio anche quest'anno non sono numeri positivi, è possibile nasconderlo, come ho detto anche in Assemblea ci sono stati, come dico sempre io, degli abbellimenti, delle misure del tutto legittime per carità, ma dei modi di presentare il bilancio abbassando il coverage di alcune poste di bilancio, facendo tra le pieghe, trasferendo delle quote degli utili, aumentando tra virgolette gli utili, portandoci delle poste sulle vecchie perdite, dei crediti fiscali, per cui si è sempre visto che un bilancio a volte non è che sia del tutto lineare, per cui qualcosa da dire c'è, perché molti dati sono in delino, la raccolta, ci sono dati fondamentali che non sono brillanti, questo è inutile negarlo e chi si ferma su questi non può che essere negativo, poi ci sono delle persone come me che tentano di vedere l'impegno di questo CDA e soprattutto come si pongono anche con il territorio, un'altra interlocuzione, un altro modo di fare, un altro stile e questa è una cosa che non si può che apprezzare, perché comunque come il fatto nuovo, poi di quali magari parliamo noi dopo, dell'Assemblea è stato anche l'intervento dell'Avvocato De Mossi, per cui quello è stato… Certo, parliamo subito, Avvocato De Mossi che afferma proprio in merito a quelle che erano le azioni di responsabilità, dobbiamo guardare avanti, questa è stata un po' la parola chiave. Sì, dobbiamo guardare avanti, anche lui è stato preciso abbastanza, non possiamo dimenticarci del passato, tanto è vero come avete visto io in Assemblea ho fatto omaggio alla Presidente Bariati del libro di Petra Serena, Storia di un disastro annunciato, proprio perché comunque la vicenda Anton Veneta con tutto quello che è nennato e con quello che sta venendo fuori ai processi di Milano, della quale dopo faremo un piccolo passaggio, obiettivamente la Vavio De Mossi ha dato un fatto nuovo, correttamente ha detto sono intervenuto come azionista, ma comunque è sempre il Sindaco di Siena, ha fatto questo intervento molto equilibrato, ha fatto capire che l'attenzione ora è maggiore, di quello è stato in passato da parte del Comune, questo ci fa piacere, come ho detto anche la Fondazione ha avuto un altro atteggiamento perché il Presidente è stato lì 7-8 ore come noi, non come prima che spesso arrivava, parlava e andava via, per cui io spero che questo cambiamento per lo meno di atteggiamento delle istituzioni sinesi porti a qualcosa di nuovo anche per quanto riguarda processi. La Vavio De Mossi soprattutto ha fatto presente che l'azione di responsabilità contro Plume Viola l'avrebbe sostenuta il Comune, per cui anche questa è un po' una discrasia di quanto poi fatto dal Ministero, perché comunque in qualche modo rappresenta anche sempre una parte politica similare. Ha detto che su questa banca ci va investito, va investito per il nome e porte, su questo siamo d'accordissimo perché al di là della direzione generale il brand Siena per il Monte dei Paschi è un valore aggiunto, il nome di Siena come ha detto giustamente il Vavio De Mossi è un nome che va sfruttato per il rilancio, perché un nome come questo è veramente un qualcosa in più delle tante banche, perché senza sminuire solo l'unicredit, l'intesa Monte dei Paschi di Siena rimarrà per me sempre una banca modello nella testa di tante persone, sia nazionalmente che internazionalmente. Prima è stato chiamato in causa Bivona, riportiamolo che è questa l'inticicazione della banca Monte dei Paschi di Siena, il quale però parole ottimiste non le ha avute in merito a quello che il futuro di Monte dei Paschi, anzi anche affermato durante il suo intervento, che il viaggio del Monte dei Paschi sarà corto, sia vicino a una prossima fermata che potrebbe essere perché no anche il capolinea. Ecco poi ha fatto notare anche quello che diciamo che non ci sono disegni strategici, che ci sono soltanto i risultati dei filiali e una riduzione del personale, insomma farò alle nette. Andiamoci da sentire quale commenta. Dopo tutto quello che è successo dal 2008 al 2015, avere in consiglio amministratori che non possono essere considerati estranei pur con gradi di responsabilità diverse alle gestioni 2008 e 2015 per i vari ruoli che ricoprivano di tempo in tempo, sia un fatto assolutamente grave. Il stesso discorso vale per il collegio sindacale. Noi abbiamo due sindaci su tre, incluso il Presidente, di cui uno in carica dal 2012, il Sindaco effettivo Salvadori, peraltro anche rinviato a giudizio, e il Presidente Cenderelli in carico dal 2015. Quindi a tutto questo si aggiunge che anche la società di revisione, che oggi interviene in assemblea e certifica i bilanci, la stessa società di revisione che ha certificato i bilanci dal 2011 in poi, di quali dal 2011, 12, 13, 14 e 30 giugno 2015 non conformi per pacifica ammissione della banca. Ma che senso ha? Ma chi con la logica del buon padre di famiglia tollererebbe una situazione del genere? E se questa azione di responsabilità verrà respinta? Ma io credo che in ogni caso sapere quella che è la posizione del MEF e del Ministro Tria, quale che essa sia, è un'informazione importante per i soci, non solo di questa banca, ma di tutte le banche. Il Ministro Tria deciderà se intervenire a supporto di una mozione che ha unica tutela il patrimonio della banca, dei contribuenti e che è supportata da evidenze monumentali, oppure fare gli interessi dei banchieri. È una sua scelta ed in ogni caso credo che sarà molto utile sentirgliela fare, quale che sia. Come commenta le parole della Di Morelli? Io credo che Morelli fa discorsi che in tutto sommato avrei potuto condividere il mese dopo, sei mesi dopo che si era insediato. Sono passati ben più di due anni e a settembre è il suo terzo anno, quindi io credo che le sue parole siano del tutto insoddisfacenti. Ma sa, poi io come socio non è che mi interessano le parole, io guardo i fatti. Questa banca non è in grado sotto questo consiglio di amministrazione, in continuità con il precedente, di esprimere nessuna strategia che non sia la chiusura delle filiali, la riduzione dell'organico e sostanzialmente la vendita e la cessione delle fabbriche a prodotto. Quando il dottor Morelli avrà chiuso l'ultima filiale non gli verrà che chiudere la porta, la chiave, spegnere la luce e quella sarà la fine della banca. Ecco, poi dopo l'intervista realizzata proprio al rappresentante di Bibel Giuseppe Bibona, abbiamo intervistato tra l'altro dopo l'assemblea anche lei insieme a Maurizio Montigiani, poi l'avete detto sì, accogliamo comunque con piacere questa presa di posizione di Bibona con rispetto alle azioni di responsabilità. Chiaramente era nell'area il fatto che venisse la rispinte. Indubbiamente, si sapeva che anche se sulla prima penso ci sia stato nei numeri irrisori chiaramente dei soci una certa convergenza sulla prima, sulla seconda anche lì d'accordo con il Sindaco perché obiettivamente a parte il fatto suo di interlocuzione a livello istituzionale, ma anche per noi un'apertura di credito comunque verso questo CDA che dovrà lavorarci sicuramente qualche altro tempo bisogna darglielo. L'importante è che capiscono questa necessità di fare un certo cambio di passo perché come abbiamo fatto presente in più persone ci sono dei problemi come nell'NPL, ci sono dei problemi appunto di smantellamento di filiali, addirittura di giusura dell'estero sta praticamente, il mondo di Paschia a livello internazionale sta del tutto sparendo, sono segnali veramente al di là del fatto economico, anche dal fatto morale è veramente una cosa che a un senese, ora appunto a un nome Giuseppe Bivona con tutto l'affetto e la stima può importare meno questo lato romantico per gente come noi. Certo, legata al territorio sicuramente sì. E questa è una cosa che veramente ci pesa, anche la vendita di questi 500 milioni di immobili per esempio potrebbe essere una cosa della quale vorremmo parlare con il CDA perché venderli ora, svenderli ora come qualche socio ha giustamente detto sarebbe un errore lamoroso, i prezzi sono bassi, si rischia di fare come Palazzo dei Normanni, Fontana Fredda, cioè dare via per un tozzo di pane delle asset che hanno un valore come si è detto non solo economico ma anche morale per la città, perché io mi ricordo quando lavoravo al Monte mi divertivo a fare il giro dell'Italia per vedere le filiali che erano tutti in palazzi e eccezionali, tutti di proprietà della banca, ecco questa è una cosa che purtroppo bisogna dimenticarsela, ma non del tutto, il discorso del sindaco giustamente, il passato è passato, pensiamo al futuro però tenendo presente tutto quello che è stato, l'avvicendamento di persone, dirigenti per fare un cambiamento ci vuole anche un sostanziale cambiamento di governance, anche di modo di fare e qualcosa deve fare Morelli, secondo me lo farà. In questo lato un po' romantico dove si va a ripensare a quella che era la potenza della banca a tempi ormai remoti, qua c'è la realtà, ossia anche il fatto di quello che il CDA sta valutando anche ipotetiche aggregazioni e nell'ipotesi di aggregazioni c'è già la risposta del consigliere delegato di UbiBanca, il quale afferma che anche se al momento non ci sono dovuti essere aperti, però c'è interessamento, cosa si può dire al riguardo? È un'ipotesi che ormai sembra una novella, perché c'è UbiBanca, c'è l'estero, c'è addirittura la Cina, qualcuno dicono fondi arabi, obiettivamente io preferirei a questo punto nella cosa dolorosa che ci sia un'aggregazione della quale purtroppo Montefaschi difficilmente sarà parte aggregante, ma parte aggregata, però l'importante sarebbe mantenere un marchio, mantenere un'economia, perché il rischio più grosso è uno spezzettamento, che è un'altra ipotesi che viene detta meno perché sarebbe più dolorosa per la città, per la banca, per i dipendenti. Io fino a che non vedo non credo, perché purtroppo si vede, non è per giustificare nessuno, ma anche la situazione internazionale fa stare veramente ogni piedi per terra, vediamo oggi che all'Italia probabilmente tutto il piano che sta avanascendo, siamo arrivati a una conclusione che purtroppo salterà tutto, per cui io non vorrei che questi messaggi siano un po' situazioni per tenere il titolo alto o basso in borsa, siano operazioni meramente speculative e meramente illusorie, mi piacerebbe anche su questo ci fosse più concretezza, se una cosa è pronta si dice, se non è pronta non si dice, soprattutto anche qui da parte del governo, questo messo bisognerebbe che avesse un atteggiamento finalmente risolutivo che dicesse delle parole chiare, perché questa è una società oltretutto quotata in borsa, per cui questo tipo di incertezza non è del tutto censurabile. Si parla del 68,2% del capitale. Come ho detto, hanno una maggioranza talmente alta che potrebbero, come ho detto in assemblea, del Monte dei Paschi di Siena, per assurdo di venire e proporre il cambiamento, Monte dei Paschi di Siena si chiama Monte dei Paschi di Rocca Cannuccia, per assurdo cambiare la direzione generale, spogliare la banca, per cui hanno un'enorme quota di azioni che devono avere una presenza, una chiarezza che non hanno avuto per niente fino a oggi. A commentare l'assemblea del Monte dei Paschi di Siena anche il giornalista Pino Meccarone. Sull'utile è stato un piccolo utile, la capogruppo è ancora in perdita, io su questo non mi farei grandi illusioni per ora. Per quanto riguarda l'azione di responsabilità che è stata bocciata, chiaro che su questo sai, la peggior figura su questo aspetto qua lo fanno chiaramente il Movimento 5 Stelle, perché l'anno scorso l'hanno arrivati qua con un esponente Sibilia, onorevole, membro della commissione di inchiesta sulle banche, che durante l'assemblea aveva invitato i rappresentanti del Tesoro a votare l'azione di responsabilità nei confronti di Viola e Profumo, poi l'azione di responsabilità era stata bocciata e Sibilia aveva detto però col nuovo governo il Tesoro sicuramente voterà a favore dell'azione di responsabilità. ora è arrivato il nuovo governo, ci sono anche 5 Stelle, quando è stata bocciata la prima richiesta di azione di responsabilità c'era solo una richiesta di rinvio a giudizio per Profumo e Viola, ora c'è un processo però l'azione di responsabilità è stata nuovamente bocciata. Poi un'ultima cosa che forse è anche molto interessante perché sai nelle assemblee si comunica, quindi vedi come comunica l'amministratore delegato, se dice le stesse cose dell'altra volta, se dice qualcosina in più o qualcosina in meno. Questa volta sul futuro del Monte dei Paschi oltre a dire che si sta ragionando sulla possibilità di un'aggregazione quindi che venga comprata da qualche altra banca, ha detto anche che si sta anche lavorando o sull'aggregazione quindi comprata da un'altra banca o su una diversificazione dimensionale, che ora sembra una parola difficile, però se il Monte dei Paschi deve essere comprato quindi non può crescere, quindi se c'è una diversificazione per dimensione può solo diminuire, può solo dimagrire, quindi l'altra possibilità che rimane è che facciano uno spezzatino della banca. E rimaniamo ancora con i nostri ospiti, anche quella che sarà la nostra seconda parte, però adesso guardiamoci l'opinione del Santo. Buongiorno a tutti. Di questi giorni la nuova ordinanza che obbliga, diciamo così, a portare la bottiglietta dell'acqua ai padroni dei cani che li portano a fare i bisogni fuori, in città. Un provvedimento che evidentemente si è messo necessario perché purtroppo, come spesso accade, molti sono maleducati e fanno fare i propri bisogni in ogni dove e quindi creano anche dei disturbi ai cittadini. Io credo che questo provvedimento, come è un provvedimento che è stato preso anche in altre città d'Italia, penso a Genova, sia un provvedimento un po' diciamo così per lavarsi la coscienza appunto parlando di acqua perché purtroppo io credo che chi non raccoglieva i bisogni dei propri cani prima non butterà l'acqua nemmeno ora con questa ordinanza perché è un fatto di cultura, è un fatto che si guarda a queste cose e poi magari la stessa persona che si lamenta della pipì del cane la vedi buttare la cicca per terra e quindi è proprio un fatto di cultura, ma quello di cui volevo parlare non è tanto la nuova ordinanza perché ci adegueremo tutti noi proprietari di cane, l'abbiamo già fatto, ma è la polemica che è scoppiata intorno a questa ordinanza. Chi è favorevole, chi è contro, chi vorrebbe eliminare tutti i cani, tutti i proprietari di i cani, ma la cosa buffa secondo me e come ho sempre detto andrebbe analizzata dal punto di vista antropologico anche, è appunto questa polemica, questi fiumi di parole che si spendono su Facebook e sui social, su questa vicenda che se ci pensate bene è una vicenda veramente molto piccola rispetto a quello che è successo. Non ho visto assolutamente fiumi di parole quando è crollato il Monte dei Paschi, quando l'università ha avuto il buco di bilancio oppure anche ora quando qualcuno appunto dell'università è stato assolto, oppure non vedo per esempio notizie giornaliere o anche settimanali riguardo al processo sul Monte dei Paschi. Io credo purtroppo che questa città viva solo di piccole cose e ci si accanisca l'un l'altro anche senza motivo su piccole cose e sui temi importanti invece tutti coperti e allineati e solo ogni tanto si fa qualche puntatina nelle cose importanti. Questo dispiace perché purtroppo a mio avviso denota una città che è ferma, una città che appunto si gingilla con le piccole cose e non ha ancora, ahimè, capito che non è tanto la pisciatina del cane, passatemi il termine, quello che determinerà il futuro di questa città e di questo territorio ma il come reagiremo a tutto quello che è successo in questi anni. Io spero che i sienesi prima o poi, e continuerò a dirlo, ne prendano atto e comincino veramente a pensare al futuro e non tanto, che è importante, parliamoci chiaro, a dove fanno bisogno i nostri animali pelosi. Buongiorno a tutti. E torniamo quindi in onda qua di sabato per parlare di tanti temi, restiamo in ambito economico, quindi restiamo anche a parlare di Monti dei Paschi di Siena con il nostro ospite Romulo Semplice che tanto torna a salutare l'associazione Pietra Serena, però per un attimo mettiamo un attimo da parte questo capitolo, rientriamo a parlare di statalizzazione degli asili, abbiamo parlato tantissimo in questo periodo. In settimana, giovedì, per la precisione si è svolta l'assemblea pubblica tra le sigle sindacali CGL, CISL e UIL, una assemblea che ha messo al centro sicuramente un fatto, ossia che ci sarà lo stato di agitazione, tanto proclamato dalla CGL anche in appoggio con la UIL, non era molto d'accordo la CIS, invece poi dall'assemblea di giovedì siamo arrivati a questa decisione, ossia lo stato di agitazione in attesa chiaramente di che cosa? Dell'incontro che ci sarà in prefettura tra le sigle sindacali, l'amministrazione comunale e il prefetto che quindi andrà a decretare quello che sarà il futuro, anche se ricordiamolo resta ancora incerto perché poi a dire la sua sarà il ministero, quindi guardiamoci il servizio e poi torniamo. È stata un'assemblea molto vivace, su 127 votanti, 126 hanno votato per lo stato di agitazione, quindi il mandato che hanno dato all'organizzazione sindacale è chiaro e noi lunedì andremo con questa richiesta, rinnoveremo all'amministrazione la richiesta di abbandonare questo progetto. Se lunedì conciliamo bene, ognuno ritorna a fare le sue cose con calma e è quello che noi auspichiamo perché non vorremmo che l'amministrazione arrivasse a uno scontro con i lavoratori che poi si ripercuoterà inevitabilmente anche sull'utenza. I genitori delle nostre strutture hanno firmato, come avete visto, una lettera che hanno scritto, più di 600, questo ci fa molto piacere perché vuol dire che i genitori riconoscono quello che è il valore dei nostri servizi. Anche le scuole dell'infanzia statale ci hanno chiamato dicendoci che appoggiano la nostra battaglia e questo è molto importante perché vuol dire che è passato il messaggio che non era uno scontro fra due tipi di servizi ma che ognuno rispettando la propria identità ed individualità è giusto che nel territorio resti. Quindi le insegnanti dello Stato sono disponibili a fare mobilizzazione o qualcosa con noi. Quindi queste sono quelle parole della Maria Elisa Ghidoli della CGL che abbiamo più volte intervistato anche durante le nostre trasmissioni e quindi di conseguenza adesso ci sarà da attendere lunedì per capirci qualcosa. Rientriamo a parlare di Monti e di Paschi di Sena anche perché ricordiamo ancora il tema udienze c'è molto da dire al riguardo anche perché bisogna attendere quelli che sono i prossimi appuntamenti cosa ci dobbiamo aspettare al riguardo. Dunque il fronte è abbastanza variegato addirittura anche noi che un pochino lo seguiamo iniziamo a perderci perché per esempio il giorno dell'assemblea a Milano c'è stato un procedimento per il vecchio filone scontro Mussarivigni e la nostra sensazione è che ci sia un po' troppa per carità con tutte le responsabilità che hanno però ci sia un po' troppo a redine giudiziare nei confronti della vecchia amministrazione cioè Mussarivigni e un po' meno in quella nuova. Ora questa è una cosa che come ho detto da una parte ci può far piacere ma da un discorso lineare non ci piace tanto perché gli stessi magistrati che chiedono ripetutamente hanno chiesto ripetutamente l'acchiliazione di Profumo e Viola sono quelli che chiedono sempre il rinviaggiudizio e il giudizio insomma degli altri. Ecco servirebbe una sorta di discontinuità. Esatto perché appunto noi abbiamo sempre detto Profumo e Viola purtroppo hanno le stesse colpe dei precedenti perché hanno fatto più o meno le stesse manovre in continuità. Ora detto questo si apre una stagione intensa perché mi sembra che sono già stati fissati ben 11 udienze del processo contro Profumo e Viola per quanto riguarda i derivati. Poi ci sarà anche quella il 21 maggio che riguarda l'NPL sempre a carico di Profumo e Viola e lì il magistrato Salvini deciderà probabilmente se anche lì di inviarli a giudizio o meno. Per cui si stanno un po' accelerando delle situazioni e grazie all'attività del buon governo e soprattutto dell'Avvocato Palaschi obiettivamente. Io infatti ho fatto presente anche in assemblea che sarebbe l'ora che non solo queste poche persone con una fatica immensa e dei costi anche abbastanza elevati proseguono questa azione che non vuole essere né punitiva né giustizialista, vuole essere un'azione di verità, di chiarezza perché qui c'è, come ho detto, migliaia di persone che sono state azzerate, patrimoni del tutto azzerati, persone che invece siano addirittura dei suicidi, delle aziende fallite. Ecco, questo non è tollerabile. Per cui io ho chiesto pubblicamente in assemblea e mi sembra di aver capito formalmente che il comune attuale un'intenzione l'avrebbe. La fondazione mi sembra, come ti ho detto, più aperta a questa collaborazione. Io ci includo la regione toscana perché questo è come il MEF, cioè bisognerebbe che queste istituzioni pubbliche, al di là delle loro opinioni, al di là di quello che pensano, diano una mano nella ricerca di queste verità. Si facciano vedere, sicuramente si facciano sentire. E intervengono i processi perché loro hanno strutture, hanno funzionari qualificati per farlo che potrebbero dare una mano ai pochi, a Vato Palaschi, ora si è aggiunto anche l'avvoato Rossi che sta dando una mano, c'è dei piccoli orrispondenti a Milano, ma ecco, noi siamo stati anche noi a Milano, ma non per fare le vittime, ma per andare a Milano tutte le volte si va, partono quei due, tre, quattrocento euro. Anche perché poi un conto, chiaramente un piccolo azionista, un conto se poi prende posizioni dice, non solo la potenza economica, la potenza anche di Milano e poi è il dovere, perché un piccolo azionista può essere anche facciato se c'è un interesse personale, lo fai e sapete non è così perché, figuriamoci, ma l'istituzione è proprio, la gente se la vede come una forza deve esserli accanto in una ricerca di giustizia e questo finora a me mi sembra non sia successo. Mettiamo a stand by Montefasca di Siena, parliamo di pedonalizzazione perché in realtà proseguendo con la questione della Y storica che aveva acceso il dibattito a Siena parliamo adesso di pedonalizzazione di via Pantaneto che in realtà può permettere una migliore vivibilità sicuramente della zona, soprattutto quella dei commercianti che possono così anche tirare fuori nella stagione estiva, anche se ancora diciamo che tarda ad arrivare, visto che siamo in primavera, ma le temperature non sono di certo quelle primaverini, possono mettere sedie e tavolini fuori. Per farlo verranno installati i due pilomat che si prenderanno a carico proprio gli esercenti. Ne abbiamo parlato con Massimo Fiorilli dell'associazione Viva Pantaneto. Abbiamo fatto questo accordo col comune per il pagamento di questi pilomat e così ci permetterà di mettere i tavoli tutti i giorni fuori. Sono più posti, la gente che mangia fuori e per il benessere anche della via sicuramente chi ci abita ci sono delle migliorie importanti. Ecco, un'idea che ha messo a cordo tutti gli esercenti della via? Sì, sì, quello sicuramente. Per noi è importantissimo. È il nostro lavoro e sicché ci permetterà sicuramente più gente. Le tempistiche, secondo te, quali saranno? Le tempistiche ci stiamo ancora lavorando, infatti spero in settimana di chiudere tutto. E funzionerà poi il pagamento dei pilomat? Allora, il pagamento dei pilomat andrà sul COSAP, sul suolo pubblico. Il percentuale del suolo pubblico che viene occupato da un esercente verrà pagato per tre anni. Questa è la convenzione che faremo al Comune. Di che cifra si parla? I pilomat si parla sui 15 mila euro. Comunque il Comune farà una gara d'appalto e poi su quello decideranno. Adesso mettiamo un attimo da parte anche quelle che sono le informazioni relative alle notizie o comunque fatte da autorità per parlare di cultura. Lo sapete, ormai lo facciamo ogni settimana e questa volta è il momento di parlare di una mostra che è vista dall'opera d'uomo, ossia marmo-bronzo e argento per Alessandro VII. Guardiamoci dentro. Il Museo dell'Opera di Siena apre le sue porte all'oreficeria e alla scultura monumentale dell'età di Papa Alessandro VII, il senese Fabio Chigi. I preziosi manufatti, conservati nel museo o nella sacristia della cattedrale, saranno esposti nella cripta del Duomo di Siena. È un'iniziativa che intende presentare questi tesori, reliquiari e altri oggetti e i busti che illustrano l'effigie del Papa in modo da rendere conoscibile e per il futuro anche, non solo per questa mostra, un patrimonio che finora era poco noto. Molte opere, soprattutto i quattro reliquiari dei Santi Protettori di Siena e il profilo del Papa in una lastra bronza e adorata, erano sconosciuti come oggetti storico-artistici. Una mostra dal grande valore storico-culturale che si riflette anche come occasione di valorizzazione per la città di Siena. Io credo che per Siena sia un momento di riflessione sull'immenso patrimonio che la città possiede nei meandri più impensabili, appartamenti di civile abitazione, palazzi prestigiosi oppure in luoghi come la sagrestia della cattedrale che ovviamente non può essere frequentata dal grosso pubblico e siamo sicuri che questa mostra avrà un vero successo anche all'esterno e quindi potrà attirare un flusso turistico importante. E adesso apriamo un altro capitolo, ossia quello relativo allo sport, al basket per la precisione. Bene può involgere anche il nostro ospite. Prima di parlare di quelli che sono i temi più legati alla mezzana, in realtà sempre legati alla mezzana è questo argomento, ossia perché in realtà 112 anni fa nacque proprio lì il basket, ossia stiamo parlando del campino di Sant'Agata che il comune ripristinerà. Guardiamoci l'intervista realizzata a Massimo Sportei di Assessore. Si andrà a ripristinare una traccia, un'ombra di quello che era il campino originario dove è nata la passione del basket a Siena e in Sant'Agata, nel piazzale di Sant'Agata. L'ufficio tecnico, l'ingegneria Cecotti e quant'altro hanno scelto una soluzione che sarà quella di riprodurre un'area da basket senza il tiro da tre punti perché al tempo non c'era naturalmente e con degli inserti in travertino sulla pavimentazione in modo che si percepisca quello che era la destinazione originaria del sito. Un modo anche per dare un segnale alla città in un momento difficile per il basket senese? Sì, assolutamente. Io ho speranza e convinzione. In questi giorni c'è molta attività da parte dell'amministrazione per riuscire a trovare soluzioni che siano utili proprio a dare continuità a quella che è questa grande tradizione. C'è molta attenzione sia per quanto riguarda il basket come ce n'è stato in passato e come ce n'è ancora anche per quanto riguarda il calcio. Questo è un piccolo segnale alla memoria della passione sportiva. Quello delle singole unità sportive dobbiamo seguire percorsi diversi. È un momento molto romantico legato anche al passato. Qua oggi questa puntata è molto romantica. Facciamo veramente un ping pong fra quello che era il passato e il presente. Quanto può essere importante un ripristino del genere? Insomma, là veramente si sono mostri i primi passi. Chiunque ha potuto fare basket probabilmente possa vederlo. No, io sono stato anche un mensamino, ho giocato nella menzana, ma quello che mi lega tanto a questa iniziativa, che mi piace, perché rivedere questi flashback di una siena che purtroppo non c'è più, non c'è più non solo nella materialità, ma nemmeno purtroppo nella moralità. E' una cosa che mi fa piacere, non solo perché la prima squadra di palatenestro femminile, la famosa squadra di neomini pesciolini, ci giocavano mia zia e mia nonna, per esempio. Erano due delle atlete della famosa squadra, della prima squadra femminile di basket, che calcò quel parquet, chiamiamolo così, non era parquet, di Sant'Agata. Per cui ecco, queste iniziative di un ritorno di una siena, di un'immagine di una siena che funzionava, che affascinava, mi sembra sempre una cosa molto positiva. Quello che è purtroppo l'attuale stride, perché ora la menzana rischia di perdere il titolo sportivo, ha avuto vicende veramente... è un peccato, perché l'operazione fu fatta tre anni fa, alla quale partecipammo in tanti senesi, di salvataggio, di contribuzione spontanea, sembrava veramente il preludio di una risposta molto significativa. Purtroppo, non per fare il critico, anche lì, purtroppo, dai 3-4-5 mila tifosi dei tempi d'oro, quando siamo stati a doversi mettere le mani in tasca, mi sembra non siamo arrivati a 500 persone. Ora, poi purtroppo anche lì la gestione non doveva essere 100 di questi 500 tifosi, doveva essere raccolta un po' più dalle istituzioni del tempo, doveva essere creato, io non voglio condannare i macchi, perché l'ho seguita un po' meno, perché poi le cose quando non posso avere in qualche forma un controllo, ma un'attenzione più specifica, capire le cose, non ne parlo volentieri, perché potrei dire delle cose sbagliate. Però ecco, anche questa storia di questa famiglia macchi, che viene l'estatodato, come si fa sempre a scena, ci sapre troppo verso le... Mano libera, certo. Arriva quello dall'esterno, non voglio fare riferimenti al Monte dei Paschi, ma capite bene di che parlo, arriva il Messia dall'esterno, sembra arrivi il Salvatore della Patria, tutti si prostrano a lui, poi dopo quando iniziano ad arrivare i problemi, tutti spariscano e tutti diventano i primi accusatori di quelli che avevano omaggiato. E adesso, infatti, è arrivato Dattile, ossia colui che aveva messo sul piatto e finalmente c'è il piano di rilancio della menzana basket, e adesso, ricordiamolo, dopo questo periodo di lungo silenzio, ci sarà la conferenza stampa, la quale parteciperemo, di una cosa che vi terremo aggiornati a metà settimana, mercoledì, per la precisione, dove quindi di conseguenza sapremo di che cosa si tratta e quindi che futuro potrà avere la menzana. Anche se, ricordiamolo. Il titolo sportivo è tutto quello che ne ho seguito. Quindi c'è da attendere, e noi vi terremo aggiornati nelle nostre edizioni del Tg, nella nostra costante informazione. Io ringrazio il nostro ospite, però prima di chiudere, una questione delicata, in assemblea comunque Montefaschi se ne ha parlato molto, ossia quella relativa alla questione di amanti, è difficile fare chiarezza. Molto difficile, coinvolge diverse banche, è un'altra operazione purtroppo spazzatura, la chiamo, perché veramente anche l'immagine della banca, come è stato detto alcuni soci, non è pensabile che una banca come il Monte, ma come le altre, possa vendere dei pacchi ai propri clienti senza avere fatto una capillare ispezione di quello che veramente si trattava. Per cui è un brutto capitolo e poi un capitolo che purtroppo inciderà sul bilancio, sul conto economico della banca, perché è uno dei richiami fatti sul bilancio di quest'anno, gli accantonamenti per le cause legali di questo, come per le altre cause legali, sono irrisori rispetto alla realtà che potrebbe essere, per cui è un altro fattore che potrebbe incidere. Come si è già detto, è inciso moltissimo sull'immagine, meno di my way for you del tempi del 121 forse, ma comunque è stato veramente un brutto episodio, perché non c'è più quell'attenzione verso il cliente, perché prima di vendergli un prodotto bisogna che ci siano delle garanzie veramente, non dico al 100%, ma per domenica il 99%. Grazie, grazie Vida Romulo Semplici per essere stato qua con noi e noi adesso cambiamo argomento, quindi torneremo a parlare di quelli che sono fatti di politica, non aggiungo altro, le strategie con noi, non scopriamo di quattro anni. Grazie. Quindi adesso spostiamoci da quelli che sono i temi economici, quindi come abbiamo visto parlando di molti dei passi di Siena, prima con il nostro ospite, a quelli che sono temi prettamente politici. E se da una parte c'è Giovanni Soto, il governatore di Liguria, sempre più vicino a Giorgia Meloni, quindi pronto ad ammazzare chiaramente, tra virgolette, Forza Italia, sarà tra l'altro oggi alla conferenza al Torino, conferenza programmatica, proprio di Fatali d'Italia, scusate, a Siena c'è invece Bernardo Maggiorelli, che si è spostato, e qui di oggi ospite con noi, si è spostato da Forza Italia a Fratelli d'Italia. Intanto buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Quindi diciamo una situazione, sicuramente un fenomeno che ancora si vede poco, sia però è in atto nel centro di estra, fatta ora ne parleremo con il nostro ospite, sia Meloni che è in forte crescita, oltre a confini del suo partito, dall'altra un'emorragia di Forza Italia, sicuramente all'ordine del giorno, sicuramente visibile. Si può parlare forse più di voto, di testimonianza, di prospettiva, di una politica generazionale, rispetto a quello che era il partito moderato di Berlusconi, che forse non convince più i giovani, e adesso ne parleremo proprio con lui, ma chiaramente questi sono punti di vista. E se prematuro scommetto il suo passo di Forza Italia, sicuramente la prima volta, che comunque l'eventualità è stata presa in considerazione. ossia si va a disegnare un nuovo centrodestra, da una parte la Lega con Salvini, dall'altra Meloni con Fratelli d'Italia. È stata questa dinamica nazionale a convincerla? Allora, ripeto, intanto buon poveriggio a tutti. Sì e no, nel senso, diciamo che il popolo italiano sta cominciando ad apprezzare la coerenza e il mettere in atto quello che viene promesso. Quindi, come si vede, Salvini è sempre in crescita, ora in questo momento ha diminuito di un punto, comunque un po' più, ma ha superato il 30%, quindi questo fatto lo dimostra, perché che dir si voglia ha fatto quello che ha promesso e così Giorgia Meloni è stato un partito coerente e quindi in questo momento gli italiani stanno apprezzando la coerenza. I partiti moderati della Seconda Repubblica purtroppo in questo momento stanno un po' fatiando e i sondaggi pronostici e le varie tornate elettorali lo dimostrano. Ecco, oltre però alle dinamiche politiche nazionali, ma di conseguenza pioggia anche locali, la politica è fatta anche di persone. Ormai io in queste settimane, prima con Marignani, poi con la scorsa settimana Giuseppe Giordano, adesso con Bernardo Maggiagli, parlo sempre di questi chiaramente spostamenti, magari sentirsi più rappresentati, però chiaramente la politica è fatta anche di persone. E quando poi si spende, chiaramente durante la campagna elettorale, molto per una persona, poi c'è il rischio chiaramente di rimanere ammareggiati, soprattutto per chi chiaramente ha speso non soltanto tempo, ma anche magari passione e voglia di immaginarsi in quel candidato lì e quindi vedere in quel candidato magari la propria attesa, la propria voglia di fare politica. Ha parlato con quelle persone lì di Forza Italia? Allora, il rapporto che ho con i dirigenti locali di Forza Italia è tranquillissimo, buono e siamo lasciati senza nessun tipo di rancore e di problematica. Perché? Perché come hai detto anche te, la campagna elettorale, che comunque ancora non è passata nemmeno un anno, è quasi scaduta, è fresca, è stata fatta in maniera univoca da tutti, da tutti i vari gruppi che hanno partecipato a questa vittoria, ovvero la lista civica e i tre partiti di centro-destra e le persone nel momento in cui c'era la campagna elettorale erano un gruppo unico, erano un gruppo solo e quindi non c'erano divisioni interne nel locale, come hai detto te, valgono molto di più le persone che i simboli e le varie ideologie, anche perché i problemi sono più all'ordine del giorno e molto più pratici e umani di quelli che possono essere a livello nazionale. Quindi sì, ci può essere un'impostazione politica in un verso o in un altro, però se una buca in una strada va tappata, va tappata, cioè non è bianco e nero. E quindi anche le varie ideologie, le piccole differenze che possono essere all'interno del centro-destra e quindi Lega Fratelli Italia e Forza Italia nel personale non hanno mai spostato i libri e chiaramente nemmeno a me. Quindi io ripeto, un buonissimo rapporto con Anita Francesconi, con Poggioni, con Loreco, per uso con l'onorevole Mugnai, quindi senza nessun tipo di problema. Ecco, quanto comunque esponente molto giovane, sicuramente Forza Giovane piace. Purtroppo non è che c'è una moda di avere giovani in politica, però sicuramente fa bene anche per la forza politica stessa. Quindi secondo te ci sono rimasti male, anche se dici i rapporti rimangono, però comunque hanno cercato di tenerti stretto? Vabbè, quello è chiaro nel senso, è normale nella natura delle cose, nella sua logica, perché chiunque vorrebbe incrementare magari o almeno mantenere il numero di eletti. Io però, ripeto, non sono mai stato iscritto a nessun partito, anche perché sono in politica attivamente da otto mesi, da quando abbiamo vinto le elezioni, quindi non mi sono mai speso in maniera pubblica per nessun tipo di partito fino a oggi, a pochi giorni fa, quindi a livello proprio di partito. Io ho parlato, ho sostenuto, ho fatto un pariutario per il sindaco De Mossi e per me stesso. Non peraltro, anche perché dovevo ancora centrarmi per bene nella situazione e capire qual era la cosa che mi poteva rappresentare di più. Prima di entrare in quelli che sono gli argomenti, le dinamiche, l'informazione costante della settimana e quindi andare a analizzare magari anche fatti extra politica, parliamo invece di quelli che sono più le dinamiche politiche che magari possono coinvolgere o meno più esponenti, ossia comunque sei del 96, quindi giovanissimo. La domanda è chi te l'ha fatto fare, ma in realtà ti legge in un altro modo. Sia è sempre più difficile vedere persone, soprattutto ragazzi giovani impegnati, sia di un colore che in un altro, sia a sinistra che a destra. Comunque diciamo che è raro, solitamente la politica, soprattutto a livello locale, è fatta magari da persone che la fanno da anni. Becchi volpuni. Esatto, quindi comunque è difficile vedere persone comunque giovani che si mettono a disposizione della città e non soltanto spendono anche del proprio tempo, quindi per quello che è il valore collettivo. Come è nata questa scelta? Allora, la cosa è nata in maniera molto naturale, perché io ho un'amicizia di famiglia con l'attuale sindaco De Mossi da anni e io mi sono istruito a livello di vicissitudine cittadine, a livello politico e non solo con, questo lo ripeto, l'abbiamo già ripetuto all'insediamento del Consiglio Comunale, mi sono istruito, dicevo, leggendo i libri di Raffaele Ascheri, quindi ho avuto già un'impostazione molto più civica che partita, cioè apprezzavo e mi informavo sulle varie vicissitudini che hanno colpito negli ultimi 20 anni, di libri se ne potrebbero scrivere migliaia, cosa che penso il 90% dei giovani non ha fatto, ma non peraltro, probabilmente perché in famiglia ho avuto questa impronta qui e apprezzando quello che veniva scritto, studiato, denunciato, perché stavo anche chiaramente, denunciavo cose che all'epoca era difficile da denunciare, io mi sono... Ti hai detto ora basta, basta, leggo queste cose, non va bene, bisogna fare qualcosa. Io mi sono istruito con questo e quindi sono nato con questa ideologia qui, a livello civico proprio, e mi sono chiaramente nel momento in cui l'avvocato e poi ora sindaco De Mossi ha deciso di candidarsi, io non avevo alternative che provare a esprimere tutto quello che nel tempo aveva acquisito dalle sue battaglie, le battaglie di tanti che speriamo che non siano state male. Cerchiamo per un attimo argomento, quindi lasciamo quelle che sono le dinamiche politiche da una parte, parliamo della festa della Polizia, ricordiamo lo 167 anni della Polizia che si è svolta in questa settimana a Siena, un momento importante, non soltanto per la Polizia stessa, abbiamo parlato la scorsa settimana con il questore Capuano, proprio al posto del nostro ospite Maggiorelli, ma un momento veramente importante anche per la città, soprattutto un momento in cui si fa un bilancio, quindi si mette un punto su quelle che sono state le attività del 2018, andiamoci a vedere il silenzio. La Polizia richiede passione e la passione è l'anima della musica e poi una realtà così splendida meritava di aprirla a un evento. Noi siamo veramente onorati della disponibilità che ha dato la Ghigiana ad ospitare la nostra festa in questa sede, è un posto delle eccellenze, eccellenze a cui tutti noi vorremmo sempre puntare. Il Palio è difficile, come dicevo prima, far coincidere le nuove norme che disciplinano le manifestazioni con le tradizioni del Palio. Un percorso, peraltro, già iniziato negli anni addietro andrà fatto. Trovo dalle parti delle contrade e dell'amministrazione comunale una grossa sensibilità. Tutti ci si rende conto che il tempo non passa in vano. Siena non vive sul pianeta Marte, vive su questo mondo dove il rischio di un attentato può essere più o meno forte ma non raggiunge mai il livello rischio zero. E quindi è doveroso per noi, ma direi per tutti, tenere presente questo fattore. E quindi se qualche modifica che non altera il senso della tradizione se c'è da adottarla è doveroso adottarla. Non possiamo permetterci di esporre al rischio la vita di chi viene ad assistere a uno spettacolo splendido. Prezzo da Polizia, Sio Crementi, Fratelli d'Italia, partito da cui ora ti sei accostato, anche l'ha detto per dinamiche nazionali, insomma il tema della sicurezza, delle forze dell'ordine, la Polizia lo mette in primo piano. Rispetto alle posizioni che ha assunto Giorgia Meloni stessa, insomma anche posizioni nette, chiare, come te li trovi? La Polizia di Stato e tutti gli apparati di controllo del territorio, difesa, quindi carabinieri e quant'altro vivono un momento storico particolare perché c'è un allarmismo giustificato dai fatti e purtroppo in alcuni casi non hanno questi corpi i mezzi per contrastarlo per via delle poche risorse e risorse di tutti i tipi, cioè parlare dalla divisa, strappata la benzina per le auto che hanno 400 mila chilometri, quindi diciamo che siamo in una situazione che deve migliorare e speriamo che, sembra che Salvini da Ministro dell'Interno stia provando a fare la nostra posizione chiaramente parlando per il partito dei Fratelli d'Italia è chiara, nel senso il sostegno delle forze dell'ordine è sempre perché hanno bisogno di sentirsi sostenute perché in alcuni momenti si trovano ad affrontare le situazioni che non sono semplici con mezzi che sono molto ma molto scarsi e scusa, dicevo a Siena siamo in una situazione di questo genere più per mancanza di capitale umano c'è più di mancanza di uomini di divise sul territorio che di mezzi ecco ecco sicuramente infatti ha preso posizione proprio Giorgia Meloni in questi giorni ossia rispetto a quella della decisione del governo di escludere dal concorso gli allievi di agenti di polizia al di sopra di 26 anni perché ricordiamo la fine fine di un'opera 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 forse sicuramente è una posizione netta certo dall'altra parte però Meloni ha preso anche posizioni molto più nette su quello che è il lavoro della polizia basti pensare al tweet che aveva fatto sul reato di tortura e di aumentare le pene per i reati di minaccia di resistenza al pubblico ufficiale come appunto due proposte di legge proprio fatte da Fratelli d'Italia ecco sicuramente molto più pesanti sicuramente va messo in atto uno svecchiamento del corpo perché come abbiamo detto si ritrovano delle situazioni che oltre a quello manca a capitale umano non solo come persone ma come persone nel senso che un sessantenne nulla toglie dal sessantenne che ancora lavora in polizia perché è solo onore però si ritrovano in delle situazioni molto difficili e quindi è giusto che ci siano un'opera di svecchiamento secondo me poi io non sono il ministro dell'interno quindi sicuramente sarà molto più preparato di me su questo tema e per quanto riguarda le posizioni più nette di Giorgia Meloni allora per quanto riguarda il reato di resistenza al pubblico ufficiale io ho visto delle scene anche a Siena per parlare proprio del quotidiano di vigili urbani che venivano derisi e presi per il naso quasi da ragazzi giovani e si rifiutavano di dargli documenti io ero lì mi sono mi sono avvicinato chiedendo se c'erano dei problemi perché mi sono sentito il dovere di farlo e sono scene che non vorremmo mai vedere ci vorrebbe più molto più rispetto per la divisa secondo me e non sono sbagliato a questo punto di vista la posizione di Giorgia Meloni cioè chi sbaglia se è appurato che ha sbagliato se è certo che ha sbagliato è giusto che paghi bene primo argomento alle nostre spalle sentiamo anche in realtà una piazza viva perché si sta svolgendo la prima edizione di dolci dolcezze motori un evento proposto dall'assessore Tirelli in collaborazione anche della WISP e noi infatti vediamo le interviste che proprio parlano di questo evento una nuova iniziativa promossa dal comune di Siena insieme all'associazione di categoria con la finalità di valorizzare le due IGP innanzitutto il Ricciarello e il Panforte senese è un'occasione eccezionale di utilizzare Piazza del Campo come vetrina di queste eccellenze e non soltanto del Panforte del Ricciarello ma diciamo di tutta la produzione dolciaria del nostro territorio credo che sia una scelta importante perché quando siamo arrivati esisteva in Piazza del Campo una manifestazione che si chiamava Ciò Così che di fatto non valorizzava le nostre prelibatezze locali ma era un'occasione di poter degustare soltanto la cioccolata in questa occasione le pasticcerie senesi offriranno anche cioccolata ma di produzione locale a partire dal mercato nel campo fino ad oggi le varie iniziative che si sono fatte hanno portato degli ottimi risultati si semina e quindi penso che poi raccoglieremo nel tempo cercando di fare sì che questi eventi siano eventi che si ripetano nel tempo e iniziano ad essere degli appuntamenti fissi le risposte ci sono state c'è stato anche chi ha chiesto più spazio rispetto a quello che avevamo proposto ci sarà la possibilità di degustare non soltanto dolci e dolcezze senesi ma anche vini licorosi passiti e vinsanti prodotti sul nostro territorio io credo sia molto importante intanto si rivalorizza diciamo prodotti locali che questo è sempre molto importante insieme a prodotti locali poi si prova anche a incentivare a motivare anche le famiglie i giovani a essere presenti a partecipare con questa diciamo edizione la prima edizione del WISP Tuning for All che dopo le ultime due edizioni che è stato presente al Motor Show la WISP lo propone qui in piazza del campo in uno scenario bellissimo e quindi potremmo mettere insieme i prodotti i buonissimi prodotti senesi insieme anche a un'attività per le persone più giovani e anche per le famiglie ovviamente con il massimo rispetto per l'ambiente dove siamo con ovviamente le macchine saranno risultamente spente saranno in esposizione saranno davanti al comune non saranno dentro le facce del campo e quindi rispetto massimo dell'ambiente bellissimo in cui siamo ma anche motivazioni ai giovani anche per un pubblico diverso per poter avere delle iniziative diverse in un momento anche particolare della stagione quindi un evento che potete assistere anche dalle nostre spalle quanto è importante persone e eventi come questo di questo tipo allora sono importanti qualsiasi tipo di evento chiaramente non bisogna andare a portare l'esesperazione di troppi piccoli eventi che poi si disperdano nell'anno e per ora diciamo che quelli che sono stati fatti hanno portato i frutti poi il bilancio chiaramente si fa come sempre a fine anno se non addirittura a fine mandato diciamo prima a fine anno e poi lo faremo anche a fine mandato questi eventi come anche quello che verrà fatto per le mille miglia sono cose che sicuramente fanno bene perché quando qualcuno si interessa a venire nella nostra città anche per qualcosa di diverso da quello che è la nostra città come attrazione classica ovvero il turismo della città d'arte è sempre bene perché dobbiamo provare a rilanciarci in tutte le varie tipologie del turismo anche come si vede oggi i motori e i nostri sapori ecco Di cosa si occuperà Berano Maggiorelli adesso che ha fatto questo cambio in consiglio comunale rimarrà comunque attaccato a quelle che erano le logiche di prima? Allora la mia posizione da consigliere comunale è quello che metterò in atto sarà sicuramente sulla stessa linea ecco non è che sennò sarei peccherei di incoerenza ecco quindi io non io sono presidente della commissione di concentramento e in questo momento la cosa principale di cui mi sto occupando è quella nel senso stiamo portando avanti un regolamento sostitutivo a quello che abbiamo abrogato a fine anno scorso per quanto riguarda le ex consulte territoriali a questo punto stiamo lavorando in commissione anche insieme alla minoranza sperando che ci diano delle integrazioni positive che le abbiamo dato chiaramente a campo libero le valuteremo per cercare di avvicinare come avevo detto anche in precedenti interviste il cittadino il quartiere esterno dove sta il cittadino dal centro storico esterno chiaramente all'amministrazione e l'amministrazione al cittadino quindi portare questa figura del consigliere delegato all'interno del quartiere una strada che stiamo seguendo parallelamente insieme al comandante la pulizia municipale Cesare Reinaldi e l'assessore della sicurezza Michelotti per affiancare queste due persone all'interno dei quartieri vigile dei quartieri e consigliere delegato o consigliere comunale delegato ai prossimi consigli di aria che verranno chiamati così consigli di aria quindi per fare da referente a quelle che sono le richieste diciamo più specifiche della cittadinanza quindi non soltanto vedere il vigile di quartiere che magari a livello di percezione può far stare più tranquilli ma pensare ok in caso di emergenza o necessità o comunque consigliere delegato faccio un colpo di telefono esatto nel senso verrà ora stiamo studiando ancora la metodologia per farlo insieme anche al segretario comunale che chiaramente a livello normativo ci dà l'input lui e sì diciamo l'impronta è questa portare la figura dell'amministrazione e della polizia che comunque rappresenta anche quella dell'amministrazione però diciamo l'amministratore e la polizia all'interno del quartiere per andare a metterne in evidenza qualsiasi tipo di problematica o criticità inizia da una parte c'è il questore che la scorsa settimana proprio al suo posto ha detto ma in realtà leviamo questo slogan diciamo se si può dire fabbricoletti anche politico sia sia una città insicura sicuramente i dati dicono che sì non è un'isola felice ma quale città lo è però sicuramente a Siena si sta bene sia una città sicura allora quello nel senso sono d'accordo la città non è assolutamente il Bronx quindi quello è chiaro ci sono delle alterazioni che si sono messe in atto negli ultimi vent'anni diciamo in alcuni punti un po' più critici della città però per il resto la città nel senso anche per le statistiche quindi non è che si può andare contro i dati non è un terreno di guerra quello è chiaro ci sono alcune criticità come dicevo che vanno affrontate nella giusta maniera senza esagerare o portare troppo le meno attenzioni su questo si vanno risolte e basta ecco durante queste interviste che abbiamo fatto quindi fino a pochi minuti fa hai diciamo nominato due persone per la maggiore ossia Salvini e Giorgia Meloni ecco questo è forse un messaggio da analizzare ossia magari per un giovane attivista politico forse non più legato a quelle che sono le dinamiche passate relative a quelle lunghe riunioni nei partiti magari dove ci si andavano di duplicare veramente sui contenuti e di conseguenza anche su un leader forse nella testa di un giovane politico sono anche vicinissimi come pronta politica come figure ma allora diciamo che Salvini ha un passato diverso da quello che è il presente la Meloni no è stata ancora più corrente di Salvini la Meloni perché diciamo la verità Salvini è partito come federazione padana come esecensionista come certo ha cambiato durante la lunga corsa politica poi si è adattato ai tempi ha riscoperto anche zone che non sapevo dimenticate però ora sta facendo bene quindi bisogna dare atto e sta facendo bene i numeri è inutile andargli contro come dicevo anche prima Giorgia Meloni è stata coerente da sempre perché tutte le politiche che voleva mettere in atto sono rimaste quelle ora sono sulla stessa lunghezza d'onda quindi perché no una possibile alleanza di governo futura con un centrodestra a trazione diciamo Salvini perché è colui che ha la maggioranza però con un buon apporto del partito di Giorgia Meloni che ricordo alle politiche dello scorso anno a Siena ha preso un punto percentuale in più che a livello nazionale quindi a Siena per esempio è ben radicato Fratelli d'Italia e sta crescendo Forza Italia è sceso sotto la soglia del 10 e Fratelli d'Italia sta crescendo siamo intorno a un 5-6% e i sondaggi sono l'unico partito insieme al PD che sta crescendo quindi in questi mesi in cui sei stata un attivista di Forza Italia quindi Consigliere Comunale comunque che portavi il nome di Forza Italia cosa ti faceva arrabbiare di quel partito lì che poi ti ha portato di conseguenza vedo anche qualche qualche mal di pancia quindi collegarti a Fratelli d'Italia le dinamiche nazionali? Sì 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 certo allora le dinamiche nazionali sì perché vedo una maniera sbagliata secondo me chiaramente di affrontare questo governo cioè un'opposizione distruttiva invece che costruttiva quindi secondo me l'opposizione è difficile sia un'opposizione fasulla soprattutto a livello di governo però c'è opposizione opposizione nel senso c'era un contratto di governo del centro-destra siamo alleati in tutti i comuni in tutte le province in tutte le regioni a livello locale è molto semplice comunque arrivare a unire queste forze esatto e poi a livello nazionale c'è stata questa problematica che non è stato raggiunto il minimo dispensabile per poter comporre il governo però diciamo che non mi è piaciuto come è stata gestita l'opposizione a questo governo e le varie uscite che hanno fatto i vari leader nazionali di Forza Italia che si stenta a capire anche quali siano perché Berlusconi appare poi sparisce appare poi sparisce ogni tanto si alternano i suoi sottoposti e però qui non vedo nemmeno un futuro possibile leader ecco quindi anche questo non vedo un futuro anche nel partito non vedo un'organizzazione che possa portare a qualcosa di positivo un futuro cambiamo argomento completamente prima di salutare il nostro ospite passiamo a quella che è la musica ossia la colonna senora della settimana con il tema della settimana realizzata dal nostro Massimo Villersi ben tornati avanti, medica avanti un momentino, un momentino, te lo do io insegnare ecco, adesso, vai verso la tenta abrite tutti giù stendete, parlate, parlate stendete, parlate stendete, parlate stendete, parlate stendete, parlate mamma mamma segura io l'ho capito, sai cosa vuoi dire vuoi dire che non puoi fare a meno di noi hai chiaro il telefono, te l'hai? si, si, adesso però svelta, vai infine con gli altri buonissimo avanti, tenetevi fermati, tenetevi tutti fermati allargatemi, tutti insieme, tutti insieme prezzo grazie di tutti la mano, grazie 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 e rimaniamo in quello che è l'ambito culturale ossia parliamo di libri ci spostiamo dalla musica ai libri con l'autore della settimana con appunto introdotto e analizzato dal nostro Francesco Ricci amici del programma di sabato buon pomeriggio il libro che vi presento oggi è un giallo è un giallo scritto da fausto tanzarella intitolato il cerchio del fantasma fausto tanzarella è noto non solo come editore non solo come pubblicista ma anche come autore di romanzi gialle ambientati nella siena del quattordicesimo secolo stavolta invece la sua attenzione si concentra sull'attualità sulla contemporaneità dal momento che il cerchio del fantasma è ambientato nella siena dei nostri giorni dico della siena dei nostri giorni ma in realtà la trama è orchestrata talmente bene che l'ambientazione senese è soltanto una delle ambientazioni che rinveniamo né potrebbe essere altrimenti dal momento che parte importante del romanzo è legata al mondo dell'antiquariato al mondo della critica d'arte al mondo nel quale i dipinti e in generale manufatti artistici vengono acquistati vengono venduti ma ahimè a volte può anche capitare che vengano spacciati per veri quelli che veri non sono o ancora che vengano venduti dipinti degli oggetti la cui provenienza è estremamente dubbia e di conseguenza proprio perché il mondo legato alle opere d'arte è ben presente nel cerchio del fantasma di conseguenza accanto a siena incontriamo anche altre città anche altri luoghi il cerchio del fantasma lo dico subito è un giallo che mi è piaciuto tantissimo mi è piaciuto tantissimo è una delle ragioni l'ho appena detto è proprio legata alla capacità di ideare e di orchestrare una trama estremamente credibile da vincente poi vi è anche un uso sapiente dei dialoghi quando io parlo di uso sapiente dei dialoghi intendo che la maniera di esprimersi dei personaggi riflette e dunque coerente riflette quella che è quello che il livello di istruzione quella che la provenienza sociale quello che anche l'ambiente all'interno del quale una persona si trova a vivere ed operare ma questo romanzo ha un ulteriore pregio ora noi abbiamo detto tante volte proprio in trasmissione che il romanzo giallo a partire dalla seconda metà dello scorso secolo si è venuto sempre più a caratterizzare come una sorta di romanzo sociale vale a dire di un romanzo che consente di comprendere il tempo presente con le sue storture i suoi problemi le sue contraddizioni però il romanzo giallo consente anche e tanzarella lo sa fare benissimo di accompagnare l'attenzione per la realtà sociale con quella che è la realtà più propria più personale più oscura dell'individuo vale a dire quella dimensione inconscia dove crescono i fiori del male dove ciascuno di noi è suoi mostri derivati in larga parte da complessi da traumi da ferite che non si sono mai rimarginate ed ecco allora che nel delineare ad esempio un personaggio come quello di katia personaggio veramente ben riuscito fausto tanzarella spinge la propria attenzione il proprio sguardo nei sottosuoli dell'anima di katia dimostrando in maniera convincente alla fine come le persone nel loro modo di agire molte volte si lasciano guidare né potrebbero fare altrimenti da quella dimensione oscura quella dimensione dove parole come ragione volontà intenzione non hanno peso alcuno ecco direi che il cerchio del fantasma è un giallo veramente avvincente proprio perché la trama lo sguardo sulla realtà del nostro tempo in particolar modo della realtà senese e al tempo stesso lo sguardo questo verticale questo immergersi nelle profondità dell'io coesistono in maniera avvincente e alla fine in questo romanzo tanto il lettore interessato alla dimensione dell'intreccio quanto il lettore che invece vuole vuole attraverso il romanzo avere una fotografia del proprio tempo quanto infine il lettore più interessato alla dimensione dell'interiorità profonda del personaggio e bene tutte queste tipologie di lettore credo che saranno soddisfatte fausto tanzarella il cerchio del fantasma un giallo sicuramente da leggere buon pomeriggio e con francesco ricci salutiamo anche il nostro ospite il consigliere comunale bernardo maggiorelli ultima domanda però proprio in chiusura in questi giorni di cambio appunto di casacca di cosa ti occuperai una diminente come consigliere comunale in vista anche di quello che è il prossimo consiglio comunale allora intanto devo fare il passaggio formale quello è chiaro e proviamo a portare in consiglio una bozza di regolamento di quello che parlavo prima per quanto riguarda la commissione di centramento diciamo che volevo provare dato e l'ho promesso anche alla minoranza di entro questa prima parte dell'anno concludere questo argomento quindi c'entra l'attenzione su questo bene grazie mille per anno maggiorelli per essere stato con noi grazie a voi dopo un piccolo break pubblicità ritorniamo e sono rimasta da sola ma ancora di sabato non è terminato parliamo adesso della notizia che in realtà ha accolto tutti di sorpresa sia quella che dopo più di 21 anni Sorginetta ha lasciato San Girolamo e si trasferirà a Livorno guardiamoci l'intervista questo capita diciamo fa parte del nostro questo nostro andare e venire ecco davanti alla necessità non è che Siena non abbia bisogno vengo come si dice io vengo trasferita ma viene viene la mia consorella insomma ecco a sostituirmi ecco quindi dopo ognuno con la sua personalità con le sue capacità logicamente insomma ecco quindi così cioè non si vorrebbe diciamo mai ecco un cambiamento però fa parte della nostra congregazione questo insomma ecco quali sono i più bei ricordi che le rimarranno di Siena? ma prima di tutto penso intanto gli ospiti che vengono a mangiare già oggi diciamo ma come vai via vai via ecco questo di tante persone che abbiamo potuto aiutare insomma ecco dico potuto aiutare e perché una città mi ha aiutato a fare questo quindi non sono sola il grazie va detto anche soprattutto alla città ecco degli aiuti che abbiamo usufruito insomma e i più grandi risultati che senti di aver ottenuto qua a Siena quali sono? beh riuscire a ricomporre qualche famiglia e pure dare un sostentamento diciamo di quello che fa bisogno ma poi sentirti dire grazie che mi hai aiutato ora posso fare con le mie braccia e le mie gambe quindi il discorso è di diventare autosufficienti insomma ecco di portare avanti la propria famiglia così nonostante ci siano delle difficoltà e adesso invece nella nostra ping pong relativa ai fatti della settimana passiamo a parlare di palio ossia la giunta comunale ha deliberato la composizione della commissione veterinaria e Stefano Calbucci che fa parte dell'equipe veterinaria ben dal 2012 prenderà il timone e quindi dopo l'uscita di Guido Castellano sarà lui quindi colui che prenderà appunto il timone dell'equipe veterinare non l'abbiamo raggiunto telefonicamente allora per me è stata una grossa soddisfazione ricevere questo incarico e sono veramente onorato di poter svolgere questo ruolo all'interno del palio di Siena per me è una doppia soddisfazione sia dal punto di vista professionale come medico veterinario soprattutto anche personale perché io sono un grande appassionato di palio da sempre per cui per me è veramente una grossissima soddisfazione sì io è dal 2012 che faccio parte della commissione veterinaria comunale quindi diciamo sono sette anni di esperienza alle mie spalle è un'esperienza molto formativa e molto bella beh diciamo che le cose sono sempre migliorabili si può ragionare e trovare delle soluzioni che magari col tempo possono apportare modifiche in senso positivo alla manifestazione diciamo che la manifestazione ha un buonissimo anzi un altissimo livello di salvaguardia dei cavalli per cui tutto è migliorabile però siamo a livelli altissimi insomma di rispetto per questo animale mi sentirei di dire che siamo molto più avanti di tante altre manifestazioni nella visione di tutto l'insieme dell'addestramento e delle visite per il cavallo da palio beh i cavalli che giovedì inizieranno l'addestramento è sicuramente un bel gruppo di cavalli abbiamo cavalli espertissimi con esperienza in piazza di diversi anni abbiamo cavalli che anche se ancora devono debuttare hanno comunque anni di esperienza sul protocollo e abbiamo d'altra parte con i cavalli che sono entrati dopo le visite di sabato dei buoni cavalli di 4 anni che rappresenteranno sicuramente un ottimo futuro per la festa adesso invece è il momento dell'opinione di signor Senzi andiamocelo ad ascoltare ha avuto meno risonanza di quanta ne merichi magari il titolo la città dei mestieri è un po' ambizioso ma è certo che si tratta di una iniziativa che definisco preziosa la commissione solidarietà delle contrade che sta svolgendo un pregevole lavoro facendo onore al nome assieme agli economi ha stipulato una convenzione con l'azienda per i servizi alla persona che ha messo a disposizione spazi all'interno dei quali vivranno per 5 anni laboratori di scambio e formazione per attività artigianali insomma si cercherà di salvare gli antichi mestieri che più che altrove a Siena sono necessari basti pensare ai bisogni delle contrade per le monture, per le bandiere, per i braccialetti ma più in generale a quelle attività di cui si sta perdendo il seme e che oltretutto possono garantire sbocchi lavorativi più ampi a favore dei tanti giovani disoccupati o sotto occupati sono state fatte le cose molto seriamente due anni di studio, approntamento di un piano dei costi ricerca di adeguati spazi poi offerti come dicevamo dall'ASP che a più riprese ha beneficiato di donazioni da parte degli organismi contraddaioli si realizza così un vecchio sogno e cioè esperti non più operativi ospiti magari delle strutture per anziani assieme ad artigiani e artisti in attività insegneranno i vecchi mestieri ai giovani volenterosi daranno vita a laboratori per la salvaguardia, lo studio, la valorizzazione e la diffusione degli antichi mestieri un passaggio di testimone che ha tanti significati tra cui quello di avvicinare generazioni diverse che solitamente non dialogano per motivi sociali che è inutile ripetere in città esistevano ed esisteranno ancora singoli, spesso volontari che aiutano gli economati delle contrade solitamente sono persone avanti con gli anni che saranno lieti di comunicare il loro sapere lasciando così una traccia indelebile della loro abilità se l'iniziativa come tutto lascia supporre avrà successo sarà stato dato un segnale importante che dovrà spingere altri enti e istituzioni su questa strada con costi ritengo contenuti, con risultati a beneficio della nostra cultura e per favorire magari la nascita di botteghe mettendo così almeno un freno ai laboratori del cibo che da alcuni anni stanno invadendo la città Mediatore dell'iniziativa è il Consorzio per la tutela del palio sotto legida del magistrato delle contrade questa è anche una risposta a chi incolpa ingiustamente gli organismi di immobilismo e paliocentrismo ancora un segnale per coloro che dall'esterno non hanno ancora capito quale livello di cultura e civiltà le contrade stiano difendendo per i miei commenti settimanali sono sempre alla ricerca, non sempre fruttuosa, di buone notizie questa finalmente è davvero ottima E adesso siamo veramente in chiusura però non ci siamo assolutamente dimenticati della nostra Valentina Tonei pronta dagli studi con i suoi artisti on air Cara Simona, oggi ad artisti on air c'è un gradito ritorno quello di Gian Matteo Geminasca perché è un ritorno, perché lui in realtà era stato da noi se non sbaglio era ancora il 2018, vero? Era ancora il 2018, fine 2018 Allora, eri stato qua da noi per parlarci insomma di un bel risultato che avevi ottenuto grazie a Via Pisana 99 ricordiamolo perché grazie a questo bel risultato, a questa soddisfazione finalmente oggi possiamo presentare il tuo video Beh sì, intanto grazie per avermi ospitato un'altra volta mi piace pensare ad essere di casa da queste parti Sì, Via Pisana 99 è stata una buona idea, nel senso i concorsi fanno bene, servono e nel mio caso ho avuto la possibilità di vincere un concorso e mi ha aperto un po' di porte Via Pisana 99 è stata la scusa e il pretesto per andare avanti a fare cose Senti, cosa c'è nel tuo futuro imminente? Il futuro imminente c'è un disco che dovrebbe uscire, che uscirà d'estate quest'estate 2019, ci sono un bel po' di canzoni tra cui Via Pisana 99 e un po' di vita raccontata, un po' di vita raccolta in questi 26 anni E un po' di live stai andando in giro? Sì, sto lavorando in dei contesti molto interessanti per quanto riguarda i live, un po' di festival, un po' di situazioni interessanti Bene, bene Allora, ci sono tante novità, quindi in realtà questo non è proprio un arrivederci perché mi auguro che con l'uscita del nuovo album tornerai a presentarcelo a Radio Siena Lo sai, ci teniamo sempre molto Assolutamente sì, non vedo l'ora Allora, Gian Matteo, ti faccio lanciare a te il tuo video Via Pisana 99 Gian Matteo Nasca C'erano Silvia e Condi che giocavano a pallone Ed io per fare il figo poi sfondai pure il portone C'era mia sorella che mi proteggeva con quegli occhi di veleno Ricordo con orgoglio il bar di Via Pisana Ed io sui tavolini a guardare Futurama Ricordo tutti i compiti da fare Ma giocavo a nascondone C'era pure Alberto, chissà che fine ha fatto Voleva far l'attore, chissà se ce l'ha fatta Ricordo le sue scarpe appese allo stendino Il saluto sempre uguale di quello stronzo del vicino Ricordo quel momento, fosse falso Ti prego sparami Poi le scrissi quattro righe su di un foglio profumato Lei neanche le lesse, ma nemmeno ci speravo Hai fatto proprio bene, amore mio Ricordo quei capelli che ci teneva a farsi bella Magari non per me, anche se già l'amavo Ricordo le sue mani intorno alla vita Magari avrei voluto che fosse la mia Tra le molecole E gli atomi a riposo Mi scordo di pensare Ricordare che Tra l'uccio e zanzare È l'ora di dormire Che devo lavorare E pagarmi l'affitto In questa casa di merda Passavo le giornate A cercare attenzione Usavo la paghetta Per pagare quel barbone Suonava la chitarra con le dita Era pieno di ambizione Poi andavo a lezione Di tennis, di pallone Non perdevo neanche un minuto Per levarmi dai coglioni E prendere la chitarra di mio nonno E fare a pezzi una canzone Soffiarne i camberini Su una torta al cioccolato Davanti a quegli amici Che non mi hanno più lasciato Soffiare così forte La far piovere il cielo Ma tanto c'era giù Che lo spegneva prima lui Tra le molecole E gli attomi al riposo Mi scordo di pensare Ricordare che Fra l'uncio le zanzare È l'ora di dormire Quei sonrisi che Come un vento fresco Sul collo sudato Stanno qui con me Fra l'uncio le zanzare È l'ora di dormire Che devo lavorare E pagarmi l'affitto E pagarmi l'affitto Di questa casa di merda Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti